Basta con i tagli alla sanità con questo slogan oggi serrate in tutta Italia delle farmacie per dire no ai tagli previsti dal governo dei tecnici. Lo sciopero interessa la Sicilia ma domani rimarranno aperte solo le farmacie di turno per consentire il servizio alla cittadinanza. In queste ore allo stesso tempo verranno avviate diverse iniziative per mettere in guardia, si legge in un documento dell'associazione di categoria, i cittadini sui danni letali che questi tagli comportano. Si tratta di tagli continui a dire dei farmacisti che sono un vero e proprio accanimento sull'assistenza farmaceutica. Intanto un'altra protesta interessa in queste ore anche le regioni che non firmeranno il patto per la salute ovvero l'accordo tra state e regioni che assicura come è noto le prestazioni sanitarie ai cittadini e nella manovra di governo ci sarebbe un taglio così pesante alla sanità da non rendere possibile e sostenibile questo patto.